Alberto Razzetti va letteralmente a conquistare la finale dei 400 di nuoto misti. Questo bravo uomo di origini liguri, detentore già del record italiano di 200 misti nella vasca lunga, esce dall'acqua di Tokyo con in tasca il quinto migliore tempo di qualificazione alla finale dei 400 metri misti. Vado a conquistare la finale in una delle batterie di qualificazione più dure secondo me con il secondo tempo, il ritmo ottenuto da Smith è stato per lunghi, lunghissimi tratti, diciamo così vicino al record mondiale di Michael Phelps, ma Razzetti dopo aver controllato le forze nei primi metri va ad avere una rimonta che lo porta ad avere il pass per la finale diretta che si verifica di lì a poco. Complimenti dunque al grande Alberto Razzetti che ottiene questa, chiamiamola, finale nei 400 metri misti. Il notatore riguri ottiene davvero un record in piena regola e complimenti dunque a lui. Iscrivetevi al canale, ovviamente parliamo di riempie di Tokyo 2021-2021.